Grazie a tutti. Un grazie a tutti voi che vi presenti. Ringrazio l'amministrazione comunale e anche il sindaco di Garza Veronese che vi presento. Faccio solo ringraziamenti, il personale dell'ufficio servizi sociali, la dottoressa Vicentini Marta e la dottoressa Monica Malvezzi, il segretario comunale del nostro comune, la dottoressa Chiara Mazzocco. Però un grazie particolare lo volevo dare alle associazioni che hanno curato il pranzo e tutta l'organizzazione della festa. Voglio dire la FIDAS, AIDO, COVA, la Scuola Cantorum e anche agli sponsor che ci hanno permesso di fare questa bella festa. E soprattutto la Cerea Banca nel 1997, la fondiaria SIAX, SAI di Cerea, Farmacia Lodi, Pastificio Fazio, l'azienda agricola Marolato, la trattoria La Mola, ma anche un ringraziamento all'approccio rossi italiani. Allora, buongiorno a tutti, io porto il saluto mio personale e tutta l'amministrazione comunale. Io sinceramente oggi sono anche molto emozionato perché vedere così tanta gente presente qui in piastra per noi è un motivo di grandissima soddisfazione. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.